Musica Cari teri spettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Diamo uno sguardo alla situazione generale di venerdì 13 luglio. La pressione aumenta rispetto alla giornata di ieri, determinando condizioni di stabilità diffusa con moderata attività convettiva sui rilievi e prevalenza di cieli sereni altrove. Ed ora vediamo le previsioni per la Puglia più nel dettaglio. In Puglia, bel tempo con cieli sereni per l'intera giornata. Spazio adesso alla situazione di Basilicata e Molise. In Basilicata, bel tempo con cieli sereni su tutta la regione. Anche in Molise, bel tempo prevalente con cieli sereni, solleggiato con poche nubi il pomeriggio in montagna. E infine, temperature, venti e mari. Temperature in leggero calo, caldo meno intenso, venti dai quadranti occidentali, nord-occidentali fino a deboli o moderati. Mari poco mossi, localmente mossi a largo. E per ora è tutto con le nostre previsioni. Grazie per averci seguito. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.